buongiorno a tutti eh riprendiamo oggi gli incontri dei giovedì del parri con una novità eh abbiamo deciso di concentrare l'attenzione ehm su un tema un tema ampio che riguarda eh l'attualità certamente cioè la la Russia e l'Ucraina lo facciamo eh scegliendo tre libri abbiamo scelto tre libri che trattano aspetti diversi di questi di questo argomento oggi presentiamo il libro di Antonella Salomoni il protocollo segreto il parto Molotov Ribbentrop e la falsificazione della storia pubblicato dal mulino eh lo scorso anno e lo facciamo con l'autrice che saluto Antonella e con Marcello Flores e passerò presto a presentarli adeguatamente come si conviene ma voglio intanto anche anticipare gli altri due incontri che seguiranno quello odierno eh uno dedicato al libro di Simona Merlo la costruzione dell'Ucraina contemporanea una storia complessa edito quest'anno dal mulino e poi il libro di Andrea Graziosi l'Ucraina e Putin fra ideologia fra storia scusate ideologia pubblicato l'anno scorso dalla terza quindi un ciclo di tre incontri del parri eh per approfondire appunto tematiche complesse di grande interesse di grande attualità. Oggi cominciamo come vi dicevo con il libro di Antonella Salomoni tanto eh presento l'autrice Antonella Salomoni insegna storia contemporanea all'Università della Calabria insegna anche storia della sciò e dei genocidi all'Università di Bologna eh ha insegnato eh in molte università eh europee ha insegnato eh a Mosca ha insegnato in Russia ha avuto incarichi di ricerca e di insegnamento a Varsavia Helsinki Amsterdam ehm Leningrado e eh e Parigi e i suoi temi di ricerca sono numerosi ne ne cito solo alcuni storia dell'Europa contemporanea storia della Russia e dell'Europa orientale storia dell'ebraismo russo e sovietico e un interesse su cui sta concentrando l'attenzione negli ultimi anni cioè quello della transizione post-comunista. A questo proposito ricordo anche sembra importante che Antonella Salomoni eh ha diretto un progetto di ricerca nazionale cosiddetti PRIN eh su political cultures in the transition from communism to liberal democracies the cases of Russia, Ukraine e Poland. Quindi ecco mh una studiosa eh che eh soprattutto negli ultimi negli ultimi anni ha concentrato l'attenzione eh su questi aspetti. Ricordo mi fa piacere ricordare eh oltre alla ovviamente il libro oggi è l'approfondimento di oggi che approfonderemo oggi altre sue pubblicazioni almeno due eh da il volume del duemilasette sull'Unione Sovietica e la Shoah e il volume del duemiladiciannove le ceneri di Babi Yar l'eccidio degli ebrei di Kiev. Passo adesso a presentare il il discussant eh il Marcello Flores che è stato eh professore storia contemporanea all'Università di Siena direttore del master europeo Human Rights and Genocide Studies ehm è stato prima di me direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e abbiamo anche collaborato insieme ti ricordo di Marcello su tanti progetti e fra le varie attività eh svolte eh mi piace ricordare una che forse ha qualche attinenza anche col tema di oggi cioè eh l'incarico che ha avuto Marcello Flores all'inizio degli anni novanta di addetto culturale presso l'ambasciata italiana a Versavia. Eh si è occupato principalmente di storia del comunismo, di storia del ventesimo secolo eh di temi come il genocidio degli armeni eh la storia dei diritti umani e delle vittime di guerra e oltre che ovviamente anche di resistenza. Su questi temi eh Marcello Flores ha pubblicato molti volumi eh importanti eh mi piace ricordare anche il primo perché insomma la mi sta a cuore anche personalmente ce l'ho nella mia libreria cioè l'immagine dell'URSS l'Occidente e la Russia di Stan e il saggiatore millenovecentonovanta. Altri titoli poi inerenti anche l'argomento su cui ci confrontiamo oggi. In terra non c'è il paradiso e il racconto del comunismo. Il milenovecentodiciassette la rivoluzione pubblicato con in audio il duemilasette. La fine del comunismo Bruno Mondadori duemila undici. La forza del mito, la rivoluzione russa e il miraggio e il socialismo uscito con Feltrinelli nel duemiladiciassette. Ricordo infine un altro volume che riguarda il comunismo italiano cioè il volume che Marcello Flores ha scritto insieme a Giovanni Gozzini il vento della rivoluzione la nascita del partito comunista italiano edito dalla terza al duemilaventuno. Io credo che il tema eh che affrontiamo oggi sia molto importante eh cioè il impatto Molotov Ribbentrop eh perché proprio su questo su questo patto sul significato di questo patto eh sono state prese ci sono prese di posizione eh delle istituzioni delle istituzioni europee eh ricordo credo ne parleremo oggi ne parla il libro la risoluzione del Parlamento Europeo del duemiladiciannove l'importanza e la memoria per per il futuro dell'Europa e eh ci sono quindi dei c'è un confronto storiografico fra storici sul significato di questo patto eh eh la questione eh un po' la la se è da considerare l'origine davvero l'inizio della seconda guerra mondiale eh quindi coinvolgendo in qualche modo l'Unione Sovietica le responsabilità anche mettendo a fuoco le responsabilità dell'Unione Sovietica oppure oppure no eh a questo proposito eh mi limito a ricordare che due o tre anni fa il ministro degli estri tedesco è uno importante storico storico tedesco hanno preso posizione ribadendo la responsabilità principua della Germania nello scatenamento la seconda guerra mondiale. Questo solo per dirvi che è un un argomento eh di grande interesse di grande interesse storiografico ma anche di grande interesse politico soprattutto poi nel contesto appunto in cui ci troviamo adesso di nella guerra in corso fra la Russia e l'Ucraina. quindi è un è un tema che implica molti aspetti scientifici, politici e culturali. Quindi non vedo l'ora ecco di ascoltare i nostri due relatori che sono appunto grandi esperti su tutte queste questioni e quindi passo subito la parola direi a Marcello Marcello Flores che ringrazio anche per aver accettato il nostro invito. Prego Marcello. Grazie Filippo, buongiorno a tutti quanti. Io sono molto contento di poter più che presentare questo libro chiacchierare con Antonella che credo sia una delle poche storiche che non ha mai sbagliato un libro che ha scritto e che quindi insomma merita attenzione se non altro per questo oltre che ovviamente per le sue grande capacità. Questo non è un libro sul patto russo tedesco come dice il titolo, è un patto sul protocollo segreto e soprattutto come il patto è stato vissuto nella narrazione immediata e questo è particolarmente originale perché su questo c'era pochissimo e poi sulla falsificazione sovietica e russa ancora oggi in qualche modo che ne è nata e che purtroppo però riesce in parte anche a condizionare un po' di luoghi comuni che noi sentiamo a volte anche da parte di studiosi magari non di storia contemporanea ma che hanno un grande seguito nei media. Partirei subito con una cosa. Antonella ricorda le reazioni immediate che ci sono alla notizia del patto di Ben Tropp-Molotov e ricorda sostanzialmente perché sono diverse, sono tre modalità anche di differente reazione quelle della Kollontai, quella di Ehrenburg o quella di Simonov. Lei ovviamente non se ne occupa ma volevo io qui ricordare alcune invece reazioni al di fuori della Russia perché purtroppo queste reazioni poi sono state dimenticate o sommerse, non si trovano facilmente nei libri che raccontano quegli anni. Intanto in Italia l'uscita di Valiani dal Partito Comunista in seguito al patto, l'espulsione a Ventotene dal Partito Comunista di Terracini e Camilla Ravera, oppure quello che era uno dei leader dell'internazionale comunista Giulio Umberdroz, che fu sconvolto ovviamente come tantissimi altri da questa notizia. Ricordo la moglie del, e anche lei attivista, del segretario del Partito Comunista americano Peggy Dengins che ricorda nel suo diario mi sdraiai per terra e ringhiavo come un orso braccato. Tanto era la rabbia di aver letto quella notizia. Oppure pensiamo a Paul Nisan in Francia, a Arthur Kessler che già aveva dei dubbi e che in quell'occasione formalizza in qualche modo l'uscita dal comunismo, ma anche quello che era stato il padrone della propaganda cominternista, Willy Münzenberg per esempio, il segretario del Partito Comunista spagnolo José Diaz che si suicida, e poi forse Margarete Buber Neumann che è quella che ci ha lasciato un racconto formidabile tra l'altro dell'essere stata rinchiusa tanto nel gulag sovietico che nel lager nazista, quello di Ravesbrook, il cui libro pubblicato dal mulino diversi anni fa e però mi raccontavano al mulino che purtroppo era un libro che aveva venduto dopo anni e anni poche centinaia di copie e che siccome tra l'altro è un libro bellissimo di memoria e forse significativo della difficoltà di accettare, di entrare su una questione che oggi per fortuna Antonella riesce a rimetterci pienamente alla luce. Comincerei con la prima parte del suo lavoro che è quello che riguarda l'intervento in Polonia dell'Unione Sovietica, altra cosa che per esempio nei manuali di storia raramente viene ricordato che avviene a due settimane dall'ingresso di Hitler in Polonia, Antonella ci fa sapere che quell'intervento venne chiamato all'epoca operazione speciale e mi sembra questo uno dei tanti legami che Antonella ci lancia per comprendere anche non solo il presente ma in qualche modo delle forme di continuità che ci sono stato con il passato. Ricorda come fu alla fine d'ottobre del 39 proprio il Soviet Supremo a cominciare a dire che erano state l'Inghilterra e la Francia che volevano continuare la guerra, che l'Unione Sovietica era andata in aiuto dei fratelli ucraini e bielorussi e che quindi la colpa immediatamente era stata attribuita della scelta di fare il di sottoscrivere il patto agli inglesi e ai francesi e immediatamente fa una bella analisi possiamo dire della prima grande fake news del primo grande falso che viene dato cioè il discorso che aveva fatto Stalin il 19 agosto e che verrà ripreso nel novembre del 39 raccontato in un modo chiaramente poco rispondente alla realtà a cui però Stalin risponde ancora che non era stata la Germania a iniziare la guerra ad attaccare ma ad attaccare erano state Francia e Gran Bretagna ecco quindi io ti chiederei tu sei riuscita a lavorare in una gran quantità di documenti poi ci torniamo perché la guerra dei documenti è un altro del filo rosso del tuo lavoro di questi documenti almeno nelle linee fondamentali la gran parte era era nota comunque anche se non la piena ricostruzione che tu fai perché questa difficoltà che c'è stata e che in parte continua a esserci a accettare questa idea o a mettere tra parentesi queste posizioni ufficiali legate al patto ma anche al commento ultimo di Stalin che ricordavo che danno una immagine che in qualche modo si vuole cancellare per ricordare forse solo la Russia di Stalingrado poi l'Unione Sovietica di Stalingrado e non anche quella di questi quasi due anni invece fondamentali per capire che cosa è stata l'Unione Sovietica Allora questo è un grazie davvero per per queste parole e anche per il modo in cui ha impostato la questione è una domanda molto difficile a cui rispondere no quali sono le ragioni io come soprattutto nella prima parte di questo libro ho cercato di utilizzare delle fonti diplomatiche quindi ho fatto una rilettura perché sono fonti anche disponibili per tante ragioni perché eh ci sono molte raccolte documentarie pubblicate nel corso degli anni a partire già dal dal primo secondo dopoguerra eh e poi anche in in epoca in epoca sovietica insomma ci sono importanti raccolte documentarie eh curate dal ministero degli esteri sovietico e poi russo e dunque c'è un'enorme massa di documentazione diplomatica che però non era stata direi analizzata filologicamente con un obiettivo molto preciso vale a dire quello di cercare le informazioni intorno al protocollo segreto perché questo come hai giustamente detto è un libro sul protocollo segreto quindi su un singolo documento paradossalmente un documento di una pagina eh che dunque è al centro di questo di questa eh analisi quindi ehm allora eh ritorno alla alla questione perché è molto difficile eh perché le le la la difficoltà del parlare di questo testo è il se prima di tutto c'è un problema ed è il segreto di stato è anche questo è un tema che ho cercato di mantenere molto fisso e forse sto iniziando adesso a comprendere ancora meglio le ragioni cercando di capire quali sono le resistenze odierne eh quindi questo è un tema che non ho potuto affrontare e più di tanto perché è un qualcosa in fieri ma ancora oggi nel dibattito interno russo le resistenze e anche le revisioni rispetto a un certo tipo di acquisizioni che si fecero fra la fine degli anni ottanta e primi anni novanta quando il protocollo segreto per la prima volta venne pubblicato in eh in Unione Sovietica prima e poi eh Russia successivamente le revisioni che oggi si fanno per ritornare ad una posizione precedente forse mi spiegano meglio quali sono le ragioni le ragioni sono quelle della della risoluzione del Parlamento europeo eh secondo io sono partita da quelle è stata quella la molla che ha fatto scattare la ricerca vale dire cercare di capire e come mai un documento come quello quella risoluzione ha prodotto se ne parlato non se ne è parlata sufficienza in in Italia in Europa ha prodotto un una rivoluzione è una rivoluzione nelle relazioni eh diplomatiche tra i paesi dell'Europa orientale e la Russia e io vedo nella stessa conflitto eh odierno vedo come premessa anche quell'irrigidimento e quella eh diciamo e quella eh cesura e io considero quella risoluzione una cesura rimette in gioco rimette in discussione quelle che sono state le origini della seconda guerra mondiale lo fa su pressione dei paesi come noto su pressione dei paesi baltici in prima linea e poi anche della Polonia produce una rottura diplomatica senza risoluzione senza soluzione e ehm e dunque rimette in eh discussione il tema delle responsabilità e io direi che proprio il nodo è e questo e dunque questo è un tema irrisolto in modo tutto sommato anche ehm eh non vorrei dire paradossale ma in modo improvviso rimette in discussione tutta una riflessione tutto anche un lavoro che è stato condotto nel corso di decenni sulla seconda guerra mondiale investe anche l'ambito storico e storiografico quindi è ci fa almeno a me ha fatto capire che quel nodo e quel nodo non è ancora stato sciolto assolutamente e dunque eh questa è una è un grande è un grande tema e credo che sarà ancora un grande tema il dibattito che è stato eh in gran parte soppiantato insomma dall'emergenza eh odierna dalla congiuntura militare odierna ma il dibattito che c'è oggi in Russia per eh rivedere quella decisione una famosa decisione del millenovecentottantanove del ehm da parte del congresso dei deputati del popolo che sconfessa il patto Molotov-Ribbentrop e in particolar modo il protocollo segreto oggi c'è un processo di revisione molto violento molto radicale che si fonda su in gran parte sulle stesse motivazioni che hanno condotto al segreto di stato e il tema della falsificazione della storia eh che forse eh toccheremo eh ritorna ad essere una parola d'ordine è una parola d'ordine del discorso eh politico russo odierno vale a dire che chiunque cerchi di eh dire qualcosa di diverso intorno al protocollo segreto e al patto Molotov-Ribbentrop perché il problema è anche il patto Molotov-Ribbentrop per l'astrografia russa odierna è accusato di falsificazione della storia questa è una parola d'ordine anche lì c'è una fortissima continuità fra il il primo periodo della guerra fredda e il periodo odierno non stiamo tornando alla 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 guerra fredda però c'è tanto ci sono tutta una serie di eh tematiche di eh di c'è un discorso è un discorso che è molto che è molto simile non a caso la parola operazione speciale ritorna eh quindi per me è stata una grande sorpresa trovare come giustificazione dell'intervento eh sovietico in Polonia due settimane dopo la la l'aggressione della Germania alla Polonia ritrovare il tema dell'operazione speciale è stato davvero eh una una grande una grande scoperta quindi anche l'analisi filologica anche l'analisi del linguaggio che venne utilizzato sulla stampa sovietica del tempo nel discorsi ufficiali ad esempio faccio un'analisi abbastanza abbastanza precisa di alcuni discorsi di Molotov dell'epoca il modo in cui il eh patto venne presentato alla popolazione sovietica il il anche tutta una serie di rapporti che Molotov in forma condividenziale ehm fornisce alla dirigenza sovietica ci riportano davvero a un a tutta una serie di eh moduli eh di moduli discorsivi che sono ancora ben presenti nella eh nella ehm diciamo nel discorso ufficiale eh russo e nella diplomazia russa se oggi si fa un'analisi della diciamo del discorsi di Lavrov ritroviamo tutta una serie di moduli che sono profondamente radicati nella nell'esperienza politico eh e di ehm diplomazia eh e di e diplomatico russo non so se rispondo insomma un po' a quello che che mi chiedevi. Penso altro ma io credo che il eh la parte grossa eh del libro che è anche eh avvincente per l'originalità dei documenti che che trovi che citi eccetera è proprio questo processo eh che porta eh da eh una realtà eh negata eh o insabbiata come dici te al momento in cui come ricordavi il secondo congresso dei deputati del popolo eh invece ne parla apertamente lo riconosce e poi invece ha un ritorno a questa fase iniziale. La fase iniziale che eh a me è interessato molto eh il momento eh in cui eh lo racconti al processo di Norimberga perché a Norimberga eh su eh cosa che non sapevo perché poi eh sono migliaia le pagine del processo di Norimberga e ognuno cerca quelle che più eh gli interessa nella strategia difensiva dell'avvocato di eh Hesse e di Frank eh Zeidl eh c'è proprio eh il eh tentativo di eh utilizzare il eh il patto e questo provoca eh contrasti tra l'altro tra due grandi procuratori eh d'accusa l'americano Jackson e il eh sovietico eh Rudienko addirittura eh tu eh ricordi il l'uccisione del vice di Rudienko Zoya eh credo che sì Zoria no mi sembra che Zoria forse eh eh che dove le questioni erano il rapporto segreto e il il patto ma anche l'altra questione che tu citi continuamente ma poi non affronti immagino per per spazio perché avrebbe avuto bisogno di quella di Katin e delle eh e delle fosse di Katin e ora io eh ricordo che proprio nel eh nel libro di memorie eh del eh della Buber Noi ma diceva che era in base al ai protocolli segreti che i militanti comunisti che stavano in Unione Sovietica erano stati passati alla Gestapo eh a Brest-Litovsk come era capitato a lei eh eccetera eh ora le tu quando racconti i vari punti del del dei protocolli segreti questo non emerge il che vuol dire che c'erano una serie di cose non dette oppure eh aspetti minori eh o questa era una conseguenza ma non una formalizzazione per esempio questa questione del eh dei prigionieri eh tedeschi in Russia questa è una domanda eh di eh curiosità eh e mi sembra che poi a parte la dopo la questione eh di eh Norimberga tu richiami un altro momento importante che è quello del 1977 quando c'è la sospensione della pubblicazione dei documenti della politica estera dell'Unione Sovietica che addirittura verrà ripresa poi nel milenovecenton novantadue perché eh non si si doveva parlare cronologicamente eh del patto e del protocollo segreto e ovviamente non se ne aveva eh voglia perché la linea era quella di quel libretto ufficiale che tu racconti così bene che si chiamava la falsificazione della storia è un libro che si chiama falsificazione della storia e che ha come obiettivo quello di falsificare la storia eh particolarmente eh interessante ecco eh prima di eh arrivare poi eh alla questione anche che riguardano Garbaciov eh eccetera ma la stessa eh commissione di eh eh si incaglia proprio quella con i polacchi eh si incaglia proprio sulle due questioni dei protocolli segreti e eh di Katin ecco anche se sono due cose molto eh diverse ma che tipo di eh rapporto rispetto alla verità e al nascondere la verità e al falsificare la storia c'è tra questi elementi allora sono davvero tanti tanti temi e tutti interessanti parto dalla questione dalla questione Norimberga eh per me è stato entusiasmante è lavorare sulla eh sul modo in cui eh il tema della del protocollo segreto e più in generale del patto Molotov-Ribbentrop è stata dibattuta a Norimberga perché è stata dibattuta è stata dibattuta eh non emerge molto dai documenti eh ufficiali eh pubblicati gli atti insomma che sono stati pubblicati eh in modo molto molto ampio questi circa cinquanta volumi eh di eh atti ufficiali ma emerge dalle dalle carte che soprattutto si scambiano i procuratori e oggi le abbiamo li abbiamo a disposizione e dunque che cosa emerge emerge in primo luogo poi c'è anche la lo lo scontro eh fra le fra le due procure soprattutto quella americana e quella sovietica prima di tutto emerge un patto fra le procure eh chiamiamolo patto quindi un accordo preliminare preliminare vale dire che viene siglato al momento in cui si prepara l'atto d'accusa quindi prima dell'inizio del processo e quindi c'è questo accordo fondamentale che viene peraltro eh promosso dal procuratore americano da Jackson ed è quello di fare un elenco di tutte le tematiche delicate che non devono essere affrontate durante il processo quindi si stila una una sorta di elenco di tematiche tabù che riguardano tutti gli alleati per quale ragione? Perché la ragione della della procura americana è quella di non distogliere l'attenzione da quello che da quelli che sono i capi d'accusa e quindi di non accettare virgolette delle provocazioni di non accettare delle strategie di distorsione vale dire spostare l'asse del dibattimento su altre tematiche. I sovietici naturalmente inseriscono in questo elenco il patto Molotov-Ribbentrop e la questione Katin. Gli alleati ne inseriranno delle altre. Poi dopo c'è quella rottura che si ha nel momento in cui tu hai anche evocato insomma il caso misterioso di questo membro della procura sovietica che viene che che si suicida tra virgolette insomma non sappiamo non sapremo mai se si sia effettivamente suicidato e questo avviene nel momento in cui viene ritenuto responsabile di aver di non aver bloccato la pubblicazione del protocollo segreto sulla stampa sulla stampa eh americana perché eh diciamo il testo circola eh il testo circola eh è ormai stato ritrovato nella sua forma copia attraverso dei trofei di guerra che sono quelli che eh gli alleati e sequestrano eh durante durante la la avanzata verso verso Berlino quindi c'è questa lotta dei documenti questa guerra dei documenti che ricordavi questa guerra anche degli archivi si vanno a costituire degli archivi e soprattutto ciò che interessa agli alleati sono gli archivi del ministero degli esteri tedesco tra i quali si ritrova anche il protocollo una coppia del protocollo segreto quindi il testo è noto circola lo stesso avvocato Zeidel eh della difesa eh di alcuni imputati tedeschi eh ne è in possesso e dunque il testo verrà pubblicato in eh negli Stati Uniti durante il processo eh di Norimberga quindi questo crea una frattura evidentemente una frattura quasi non dico una violazione degli accordi ma certo crea è un punto di partenza della guerra fredda sicuramente se non è il punto di partenza è uno dei punti di partenza principali tanto è vero che a fine processo poi ci saranno delle raccolte di eh documenti della mh del riguardanti le relazioni eh tedesco sovietiche in negli Stati Uniti e negli Stati Uniti che creeranno quella frizione da cui scaturirà anche il testo eh della eh sui falsificatori della storia che è una risposta a queste pubblicazioni. Ancora una volta qui non sappiamo tutto eh non sappiamo tutto nel senso che quelle pubblicazioni devono essere un progetto congiunto quindi non sappiamo esattamente dov'è che si blocca il progetto congiunto fra gli alleati che erano tutti stati invitati a partecipare a questa a questa pubblicazione. Non accettano nell'immediato né i sovietici né gli inglesi eh anche qui c'è un grande ancora grande buco nero probabilmente le carte che eh diciamo mettono in luce alcune pagine oscure delle relazioni anglo-sovietiche nel periodo prebellico probabilmente non le avremo mai a disposizione ammesso che siano ancora ancora esistenti no? perché anche gli inglesi eh hanno dei trofei di guerra quindi gli alleati mano mano che avanzano verso Berlino si procurano dei trofei di guerra fra quale ci sono dei documenti molto delicati. Ritornando alla questione quindi questo c'è un momento di rottura non si trova questa convergenza su come eh pubblicare questa documentazione che riguarda le relazioni con la Germania in modo eh condiviso i sovietici negano la loro partecipazione oppure alla fine non vengono accolti ancora non lo sappiamo e dunque da qui alcune inclinature nelle relazioni fra alleati e anche l'avvio di un periodo che puoi definire meglio la 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 guerra fredda. Poi eh riguarda invece a questa eh diciamo chiamiamola una ricomposizione di queste di queste alleanze sicuramente la fine degli anni diciamo l'inizio degli anni ottanta e a partire dalla eh dalla metà degli anni ottanta si creano delle opportunità quindi si creano delle condizioni di possibilità è un termine che a me piace molto quello delle condizioni di possibilità queste condizioni di possibilità sono date dagli storici e sono date dagli storici che in Unione Sovietica per lungo tempo hanno sotterraneamente lavorato per ridiscutere la questione della seconda guerra mondiale per valutare in modo meno dogmatico il il le origini del conflitto eh il problema delle origini del conflitto e fra queste origini ovviamente ci sono anche le relazioni eh tedesco sovietiche eh perché sottolineo questo questo aspetto perché io non l'ho indagato non sono stata capace di indagarlo in modo in modo adeguato eh anni cinquanta fine degli anni cinquanta inizio degli anni sessanta sono in Unione Sovietica un'epoca di grande effervescenza intellettuale siamo nel momento del disgelo siamo nel momento cruscioviano anche le scienze sociali e anche le scienze storiche sono investite da questa fase di rinnovamento e di apertura non chiamiamo la trasparenza ma certo c'è una grande fase di eh revisione storiografica nel senso positivo del termine e eh e quindi c'è un grande lavorio che non emerge ufficialmente però le persone eh fanno seminari ci sono dei seminari importanti ci sono delle discussioni molto importanti e ci sono anche delle memorie che circano in modo non ufficiale da parte di esponenti della diplomazia eh sovietica importanti ad esempio Maischi che era ambasciatore a Londra quindi ci sono tutta una serie di memorie di ehm discussioni e si riflette anche sulla questione del del eh patto Molotov Ribbentrop uno dei grandi eh diciamo esponenti di questo dibattito che ho semplicemente a cui ho semplicemente accennato perché avrebbe aperto davvero un altro versante molto eh molto ampio difficile da trattare e ad esempio Necric eh quindi lo eh storico Necric che poi eh sarà costretto eh all'esilio sarà censurato costretto all'esilio per aver semplicemente evocato la possibilità di parlarne non per parlarne eh per parlarne aver evocato la possibilità di parlarne verrà sottoposto a una sorta di virgolette processo interno nell'ambito dell'accademia e come lui molti altri studiosi a quell'epoca sono coinvolti in tentativi di discussione quindi ci sono delle discussioni all'interno degli istituti e anche mano a mano a sono sottoposti anche forme di controllo censura interna che porteranno ad una loro emarginazione tutto questo poi peraltro insomma è un processo molto molto complesso che conosce diverse fasi eh ad esempio c'è una fase sulla quale ancora non non ci sono state delle vere proprie ricerche che quella della fase della lotta contro il cosmopolitismo molti di questi studiosi sono ebrei e dunque anche qui insomma l'accusa di cosmopolitismo e coinvolge persino la questione del del patto eh Molotov-Ribbentro di questo le informazioni che abbiamo sono soprattutto delle memorie e ci sono delle memorie di studiosi che in tempi anche relativamente recenti hanno parlato ad esempio di quelle che erano di quella che era la situazione all'interno degli istituti di storia dell'accademia delle scienze quelli che erano i dibattiti interni e le censure anche interne ritorno alla questione perché ho evocato questo perché questo spiega anche la questione millenovecentosettantasette eh vale a dire che questo avvio di un progetto straordinariamente importante come quello della pubblicazione dei documenti del ministero eh degli esteri sovietico che ha una andamento di carattere crinolo cronologico e che poi si ferma al millenovecentotrentanove come tu ricordavi è proprio anche l'effetto di questa di queste aperture quindi ci sono delle aperture c'è una documentazione che inizia ad essere pubblicata poi ci sarà un intervento da parte del ministero degli esteri di gramico e di altri esponenti eh del ministero che bloccheranno questa questo questa diciamo questo processo proprio perché si tocca il nodo e quindi di nuovo ancora una volta siamo di fronte di fronte al nodo e perché perché non ci sono più le condizioni di possibilità e all'epoca di Brea Signev queste condizioni di possibilità si sono chiuse si sono bloccate se non ci fosse stato la storia non si fa con i sé ma certo se ci fosse stata un'altra dirigenza ci fosse stata un'altra evoluzione interna quelle condizioni di possibilità avrebbero potuto anche permettere di eh proseguire in questa apertura perché anche tutta la documentazione precedente è molto rilevante ad esempio potrebbe essere studiata con grande attenzione riguardo alla questione del patto del patto di Monaco la fase successiva è quella della metà degli anni degli anni ottanta allora questione Katin la questione Katin allora noi sulla questione Katin oggi sappiamo praticamente tutto sappiamo praticamente tutto per quale ragione perché ci sono stati molti studi perché c'è stata una non semplicemente un lavoro nell'archivio ma c'è stata anche la pubblicazione di questi documenti d'archivio e nel momento in cui in ancora in periodo sovietico si inizia a fare la ricerca d'archivio con questa eh commissione mista eh sovietico polacca che è una commissione straordinaria gli effetti si avranno successivamente anche con una pubblicazione molto ampia eh di raccolte documentare che io ho utilizzato eh ho utilizzato diciamo in modo limitato perché non mi occupavo della questione Katin eh non abbiamo la stessa cosa per quanto riguarda il fatto Molotov-Ribbent quindi non abbiamo ad esempio accesso ai lavori della commissione Jakovliev eh che è una commissione assolutamente straordinaria che ha fatto un lavoro d'archivio straordinario una commissione composta in diciamo da politici ma anche da storici da storici importanti lo stesso Yuri Afanasiev fa parte di questa commissione ma ci sono altri studiosi molto importanti che hanno svolto un lavoro molto metodologicamente molto avvertito lavorando su più strati e più strati vale a dire eh la documentazione ufficiale i anche le memorie dei protagonisti e eh tutta una serie di altri documenti interni molto molto rilevanti noi non abbiamo accesso ai lavori di questa commissione quindi conosciamo soltanto i risultati e alcuni documenti che lo stesso Jakovliev ha voluto rendere pubblici attraverso la creazione di un proprio archivio pubblico eh che è accessibile anche online quindi non sappiamo come è avvenuto il lavoro qui è molto interessante capire la differenza fra la questione Katin e la questione e la questione protocollo segreto la questione Katin riguarda le relazioni con un paese sovrano la Polonia un paese sovrano è un paese sovrano che a partire insomma dal eh dall'ottantanove intraprende un nuovo percorso già prima dell'ottantanove però inizia a fare una pressione è con l'avvento di Solidarnosc e anche con diciamo l'ultimo governo Jaruzelski che questo avviene quindi c'è una pressione da parte polacca sui sovietici per avere accesso a queste carte ma è un paese è un paese sovrano dall'altro lato invece abbiamo i paesi baltici e i paesi baltici non sono dei paesi sovrani e anzi al contrario come poi effettivamente avverrà eh la l'accesso e e la l'apertura di una discussione sul tema del eh protocollo segreto aprirà la strada alle dichiarazioni di sovranità e quindi anche a quell'effetto domino di cui spesso di cui spesso si è parlato quindi sono due aspetti eh diciamo diversi e diversi e eh al tempo stesso però la grande diciamo analogia è quello di questo lavoro storico assolutamente straordinario che è creato che cioè è reso possibile dalle condizioni della glasnost e quindi da questo punto di vista ed è Jakobliev ed è Jakobliev sicuramente il grande protagonista della glasnost quindi questo questa personalità a mio avviso straordinaria o ancora oggi non c'è una biografia su Jakobliev e non esiste una biografia a livello internazionale su questo eh personalità che secondo me è diciamo la il protagonista di quell'epoca è il protagonista di quell'epoca è non semplicemente il maggiore eh con confidente e ehm eh consulente adesso non viene il termine di Karbaciov il suo consigliere ecco il suo maggiore consigliere è anche una persona che da lungo tempo coltiva insomma delle ehm delle idee di tipo liberale tra virgolette perché ha una grande esperienza diplomatica internazionale perché ha vissuto a lungo nel Nord America perché è stato anche oggetto di ostracismo in passato proprio per le sue posizioni all'epoca di Briesch e quindi l'arrivo al potere di eh Garbaciov crea per Jakobliev le condizioni di possibilità e quindi diventerà davvero il protagonista l'artefice della glasnost e perché è Jakobliev non è Garbaciov ovviamente Garbaciov aveva altri altri obiettivi di soprattutto di natura politico economica se non semplicemente di natura economica quindi doveva salvare l'Unione Sovietica. Jakobliev invece è colui che si occupa del dell'ambito dell'informazione e quindi ehm chiudo ho parlato molto. Grazie Antonella direi abbiamo ancora spazio per un'ultima riflessione, un'ultima domanda eh prego Marcello. No proprio eh attorno a questa figura di Jakobliev che è veramente eh centrale e ben tratteggiata anche se eh non è una eh biografia quella che eh che ne fa Antonella ma è è interessante proprio perché Jakobliev ha delle idee molto chiare eh e e in quel momento eh la discussione pubblica eh è aperta è una discussione in cui poi interviene eh come ricordavi Afanadiev ma anche eh Valcogonov eh Chubarian eh cioè altri che danno dei contributi. La cosa eh curiosa e interessante invece è l'atteggiamento di Garbaciov eh che intanto inizialmente addirittura parlando proprio dei dei primi mesi tu eh dici quasi che eh c'è quasi una radicalizzazione della continuità della falsificazione fino al millenovecentottantotto quando poi invece si eh affronta eh la eh la questione eh e poi noi sappiamo però eh e tu lo sottolini che già nel millenovecentottantasette Garbaciov aveva visto i i documenti ufficiali il documento del eh eh protocollo segreto eh e però eh in qualche modo pur accettando che il dibattito pubblico eh ne eh parlasse eh Gramico invece diceva no non ci sono protocolli quindi era in qualche modo il la continuità della eh negazione eh il fatto che ci sia poi il eh congresso eh dei deputati del popolo che tra l'altro affronta in generale il tema della guerra e delle eh e delle origini eh della guerra mondiale con tutto quello che eh che dicevi che dicevi prima ecco questa idea eh che eh emerge dal tuo libro che eh Garbaciov sia stato uno di quelli che in fondo ha 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 contribuito a non rendere quella verità eh particolarmente eh vera e e pubblica come si poteva all'epoca eh e come molti eh volevano ecco proprio eh qui viene un po' da dire noi siamo abituati a pensare a Garbaciov eh non solo con la perestroica ma anche con la glasnost e invece avrebbe fuori che lui insomma la glasnost l'ha un po' subita eh in qualche modo e non ha eh eh non ha accettato come forse Jakovlev invece avrebbe voluto che se ne parlasse più apertamente. Forse questo anche perché contemporaneamente ci sono le questioni politiche legate. Tu ricordavi la questione eh dei eh dei Baltici beh appunto se eh pensiamo a a la a la lunga catena di due milioni eh di persone che proprio eh nel eh nell'anniversario eh eh attraversano eh i tre paesi baltici eh per una scelta politica poi che non è solo di richiesta di verità ma è per dire il patto russo tedesco va abolito legalmente quindi noi abbiamo il diritto di ritornare indipendenti. Ecco proprio questo legame diretto che sarebbe eh emerso tra il riconoscimento eh della verità del patto e del protocollo segreto in particolare e quindi una scelta che avrebbe dovuto essere fatta pubblicamente nei confronti dei paesi baltici tutto questo groviglio in qualche modo forse è la giustificazione eh che eh Garbaciov ha per mantenere invece una posizione eh che ci sembra un po' in contraddizione anche con le sue eh col suo atteggiamento anche morale di 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 apertura eh alla verità e alla trasparenza eh che caratterizzava il suo periodo. Sì eh le ragioni che portano Garbaciov a questa negazione perché nega eh l'esistenza di un documento che ha avuto in mano e noi sappiamo con precisione che l'ho avuto in mano perché c'è è stato registrato insomma in archivio è stata registrata l'uscita e il rientro del documento che gli è stato che gli è stato eh presentato. Ehm allora le ragioni lo stesso Jakovliev non le spiega eh nelle sue memorie ne parla eh dice non ancora oggi non riesco a è molto duro è molto duro rispetto a questa a questa negazione e non riesco a spiegarmi le ragioni di questo altri 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 esponenti dell'epoca diranno cose simili a a distanza di tempo insomma altre importanti persone implicate in questo processo di eh apertura e di trasparenza. Ehm allora dobbiamo probabilmente ricordare il contesto eh il contesto è un contesto molto delicato eh ci sono stati dei disordini in Georgia eh c'è la l'attesa di disordini nei paesi baltici quindi è un contesto molto delicato e eh sicuramente c'è anche una lucidità io non 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 voglio eh giudicarlo no ma c'è anche una lucidità del 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 capo del partito e del capo del governo eh vale a dire rispetto alla al fatto che il riconoscimento apre la strada ad un eh diciamo ad una ehm ehm al fatto di eh a accettare che questi eh che i protocolli segreti sono giuridicamente insostenibili sono le parole che si usano anche nel documento che verrà approvato dal eh congresso dei deputati del popolo nel dicembre dell'ottantanove quindi sono giuridicamente insostenibili e quindi non sono validi non sono più validi quindi si eh dichiara ufficialmente Garbaciov non vuole questo e non vuole questo eh e eh da questo punto di vista è Yakovliev che vince eh al congresso la il modo in cui si arriva a far approvare al congresso il fatto che i protocolli segreti che dunque vengono prodotti vengono anche letti in aula più volte eh non sono validi e quindi perché sono eh giuridicamente non validi è quello che eh Yakovliev riesce in qualche modo a ottenere eh eh con il congresso e eh al momento del congresso e noi non possiamo dirlo ancora una volta la storia non si fa con i sé ma certo è che questo riconoscimento che apre la strada ad una secessi apre la strada di fatto eh conferma la secessione eh perché la secessione c'è già stata quindi apre la strada alla alla alle repubbliche baltiche e sovrane eh ha probabilmente anche evitato ben altre ben altre tensioni eh vale dire che diciamo le le forze armate i sovietici erano pronti a intervenire militarmente nei paesi nei paesi baltici ci sono anche degli scontri in in quel in quel periodo quindi ehm anche da questo punto di vista insomma il ruolo di Yakovliev è stato esemplare ed è stato determinante probabilmente per per evitare per evitare altre tensioni e ben altre e ben altre violenze. Oggi Yakovliev tant'è vero che oggi Yakovliev oggi Yakovliev è la l'uomo nero della 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 non so come dire della non tanto della storiografia ma insomma della politica della politica russa eh se si cerca di informarsi su quali come è vista la figura di Yakovliev oggi in Russia viene considerato davvero il l'autore della disintegrazione del dell'impero eh quindi l'autore il responsabile della disintegrazione e del fallimento di un eh di un di una di una entità statuale che invece alla quale invece si eh ci si eh ispira eh in modo molto molto evidente. bene io ringrazio davvero Antonella Salomoni Marcello Flores all'inizio Marcello aveva detto mi accingo a fare una chiacchierata devo dire che è stata una chiacchierata non solo interessante ma per molti aspetti avvincente almeno per me spero anche per i nostri ascoltatori e davvero sono contento anche per aver iniziato in questo modo il il ciclo di incontri appunto che poi proseguirà ricordo il prossimo è sul libro di Simone Amero la costruzione dell'Ucraina contemporanea e poi quello di qui seguirà ancora quello di Graziosi il libro di Graziosi sull'Ucraina e Putin. Credo che la discussione che abbiamo fatto oggi la chiacchierata che abbiamo fatto oggi su questo libro molto importante Antonella Salomoni eh ci aiuti a a capire eh a fondo le le radici anche dell'oggi e io trovo avvincente l'intreccio fra eh storia uso della storia diplomazia no? Nella si è sempre detto si dice che le grandi guerre siano degli dei grandi spartiacque non solo per quanto riguarda la ridefinizione dell'ordine internazionale o dell'ordine politico interno ma anche per la creazione di narrazione e di memoria e e quindi questo intreccio questo eh vivi avvi luppo di no? Di di piani che si intrecciano appunto fra ehhm politica diplomazia storia l'abbiamo visto insomma l'abbiamo visto plasticamente l'abbiamo ricostruito in questa nostra in questa in questo nostro confronto quindi sono davvero insomma molto 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 contento di 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 questa di questa discussione e ringrazio appunto i nostri due ospiti Marcello Flores Antonella Salomoni e do appuntamento a tutti al prossimo incontro eh fra pochi giorni sul libro di Simona Merlo sulla la costruzione l'Ucraina contemporanea una storia complessa. Grazie a tutti e a presto. Grazie a voi davvero. Grazie al cuore per la ospitalità. Grazie Marcello, grazie Filippo. Ciao. Grazie a quel libro Antonella. Grazie davvero Antonella per il libro. Grazie a voi. Ciao.